Anche nel territorio provinciale Terramano è stato attivato il piano neve, il cui costo, calcolato complessivamente su quattro mesi, è di 415.000 euro. 50.000 euro sono stati spesi per la nevicata in alta quota di dicembre ed oltre 100.000 euro sono già stati impegnati e quindi immediatamente spendibili per gli interventi contingenti. Alla realizzazione del piano neve e dell'ente contribuisce anche la regione Abruzzo, con una dotazione di 100.000 euro per ogni provincia. Il territorio è stato suddiviso in 43 comprensori e sono 56 le ditte allertate che affiancheranno le squadre dell'ente. Per il momento nel Terramano non si registrano disagi alla circolazione, anche se è previsto per la tarda serata di oggi un peggioramento della perturbazione. Massimo impegno da parte degli uffici soprattutto, da parte dei tecnici, da parte delle imprese che sono state sollecitate e allertate, già messe in campo oltre 56 ditte private, oltre ai mezzi interni della provincia, su tutti i 1.600 km di strada, soprattutto quelli interessati dalle perturbazioni già avviate negli scorsi giorni e in questi giorni tra stasetra e domani, questa notte e domani saranno sicuramente più copiose e più preoccupanti. Ovviamente noi la massima allerta e la massima raccomandazione a tutti anche gli utenti di essere prudenti e soprattutto sollecitarci perché abbiamo predisposto un numero verde, abbiamo predisposto una pagina Facebook, ma soprattutto ci mettiamo in ascolto dei cittadini, dei sindaci, degli amministratori che vogliono sollecitarci. Il ghiaccio è l'elemento critico, infatti abbiamo dovuto incrementare l'utilizzo del sale, della gemma che fa così a rendere più sicuro, comunque è meno rischioso il transito per coloro che soprattutto si mettono alla guida, ci auguriamo solo per motivi strettamente necessari.